C'è poca gente Na mia zona c'è poca gente Dove cazzo sono? Ok là di là E quindi mi sono visto tutti i trailer di Call of Duty Remastered Innanzitutto sembra rimasterizzato molto molto bene Anche gli effetti particellari sono curati Le mappe hanno una bella resa grafica Quindi lo aspetto volentieri Se si prenotava online C'è sul Playstation Store Lo davano disponibile già da Dopodomani No da giorno 4 ottobre Non è la beta? No 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 Proprio Call of Duty Remastered C'era l'accesso anticipato di 30 giorni E' sempre preso Eh si praticamente si Anche mio fratello gioca spessissimo A Call of Duty Di più dai suoi amici Ma adesso gli abbiamo la linea Penso che nel momento in cui esce Modern Warfare Remastered si piazza qua in camera mia E giocheremo Ci farò un bel po' di video secondo me Anche perché mi piace il vecchio Cold Quindi ci sta Mamma mia vedremo santo le mix quick scooping Ieri me l'ha detto un dizio Ho detto ma che cacchio è sta cosa Perché ovviamente non giocando online Non riesco A sapere questi termini Oh mamma mia guarda cosa c'è qua E quindi Anche fortunatamente tu mi hai spiegato tutti i termini In modo anche dettagliato Ma chi è che sta rompendo le balle? Ok Andiamo qua dal girasole E ci cadiamo Ah ricarica di me Ma ucciso Adesso arriva il Gatling Te la volevo fregare Non ci sono riuscito Oh stanno attaccando il giardino Ah i nanetti bastardi Quelli la Io il primo Pianti contro zombie Me lo sono proprio spolfato di brutto Il secondo non mi è piaciuto tanto Parlo ovviamente delle versioni smartphone Perché dici? Non mi è piaciuto perché magari era Troppo basato ovviamente sugli acquisti online I livelli arrivavano poco alla volta Invece il primo era a pagamento Come su Apple Ciao ma lo sono completato tutto di un filo Cioè tutto di un fiato E anche nel computer l'ho fatto Pianti contro zombie Uno dei pochi giochi che mi regge il mio computer E c'è il pirata Morto Spiffante Minchia C'è anche il go Va questo Oh no Certo ce l'hai leggermente potentiata la tua pianta Che capro Ehi 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 Non mi è riuscito a passare Che bastardo Già siamo alla quarta onnata Allora No sbagliato No via Ho messo un altro girasole Bene bene perché mi serve vita a me Si ce n'è due la davanti Non li difende nessuno Vediamo se ho culo Tipo la sgattumascena Vai vai Mi sono stati vieni gigante Guarda boss Ok proviamo Eccolo No No Questo è quello È quello del fulmine Ok dai siamo in due Quanta vita Ok è fatto fuori E dobbiamo salire in fretta No ma è un girasole Eh si si Anche che cosa è il coso Che risuscita Dovrei avere io Dando una carta resuscita Quella la rianima da solo Quindi Ma lei che vada Abbiamo il culo parato Ne mancano pochi Dove c'è il fante Io c'ho 8 di vita 8 Ok ucciso anche il fante Ok perfetto Possiamo piazzare il girasole Allora Ne ho messo uno qua sulla destra Qua mettiamo quello infuocato Ok E qui alla qua sinistra Ma qua metti mortaglio Aspetta Vediamo Mortaglio Ok Vediamo qua Ce ne sono altri Qua mettiamo Ehm Mettiamo Il funghetto E qua metto Ok la ho messo una Gatling E posso mettere qua il girasole Secondo lo mettiamo qua Quello che tira i pugni Ah si Il finoccio No I bimbi minchia No Maledettissimo Non ho male No Mi hanno già ucciso una pianta Com'è possibile Ucciso ho fatto fuori Ok Horda completata Ehm Mancano piante Mancano piante No Qua no Qua c'è il funghietto Qua sotto Qua sotto ne manca una E anche qua davanti Ok aspetta arrivo Allora la sotto cosa metto Mortaglio Io uso sempre mortaglio Il girasole è mortaglio Sono quelli che mi ispirano di più Ok andiamo di mortaglio Allora Che stanno salendo Che cacchio sono pure più veloci Si sono fumati adesso Idraulico del cacchio Oh mia ma che belli che sono adesso Oh mi sembra un girasole Ok fatto fuori Siamo alla settima onda Ci voleva tipo il film La quinta onda Quella cacata pazzesca Non so se l'hai vista Si si Dove c'è la tipa E anche rimane bloccata Dove ci sono i squali No Quella è La quinta onda E quello là Degli alieni Che Aveva dei presupposti carini Questo film Però poi è diventato Troppo Stile twilight Per teenagers Andiamo di mortaio Che ne ho 70 mortaio Ma tu sei un teenager Sì però Troppo Squallido Poi si Si fa Infatti avevo visto il 3 Ho detto Mi bello Interessante E poi Purtroppo Mi è distruciuto Dandissimo Perché Il lese Non dobbiamo farci colpire In poche parole Addirittura Oh no Deve rimanere in leso Però ci sono i froci Qua piccoli Non ci viene il mortaio C'è quello con la bara C'è con me Sì sì I nanetti No c'è capitano uncino Qua Ok io l'ho completato Fatto anche Che perfetto Mettiamo qua Un altro girasole Non ho più Girasole No qua Non ho più Ne ho 25 Come faccio a dire Non ho più Girasole Io non sono 14 Ho finito il semi E anche col di fuoco No io ho tanta roba Quindi magari mi dici dove piazzarli Perché ho un bel po' Un bel po' di roba Dai siamo alla nona ondata Poi Già subito Ok un altro porto fuori No mi ha disfitto il fungo Aspetta che gli metto una mina qua Ah vabbè l'avevi già fatto pure tu Oddio Oddio Ok Oddio 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 No sei a terra Aspetta Ah ho utilizzato le dimensioni Ok sei vivo Io sto morendo Mi sono salvato Dove sono nei girasoli Eh finiti tutti morti Eh Non c'è neanche più il vasetto Ma porca miseria Che ore sono? Le 2.10 Vabbè dai finiamo questa Questa ondata così La salvo La memorizzo La Giovanni Faceva schifo questo botto Metto sempre Ok Mi è arrivato un messaggio d'ale Ciao santo Un diamante Due diamanti Dai dai Che culo Jackpot Vediamo qua C'è cattivo che ci viene fuori Wow No In fortuna non è venuto fuori il ballerino No è ballerino Un bastardo Stanno arrivando qua Da sinistra Stanno arrivando tanti Questa è quella barra Eccola Lui è qua Ancora con dell'elettricità Oh santissimo Mamma mia C'è un Un cattino Che è fatto fuori No Sono già morti i giri soli No Veramente No Mamma mia C'è il boss Non mi rianimare Uso l'autorianimazione Non bene Sono morto Non ne hai auto Oh sì vabbè Non ne hai auto Rianimazione Fatto Basta ci Perché c'hai con me Ma vai via Tu sei più appariscente Smentire Ma maledetto Ho 4 di vita Ce la devo fare Io ho 46 Perché sono solo gli eroi Mamma mia Vabbè Facciamo due No Tutte e due a terra Ho l'ultima rianimazione Ma perché mi sentivo sempre auto uccidere con il fagiore No Aspetta aspetta Vediamo se ci riesco Dai che ci arrivo Dai che ci arrivo Dai che ci arrivo 4 Ho 4 No Mi hanno ucciso Arrivo Arrivo Dai 64 20 Vuoi morire Ok Ora da boss Completato Dobbiamo andare Dobbiamo andare Con il frocio Raggiungi la zona Bisogno di attraverso E non c'è manco Mamma mia Ora ora ci ammazzano Proprio ora Io c'ho 63 di vita Qua c'è una lapide Bello No No Mamma mia No Siamo morti Santo Ma come hai fatto Non lo so Vabbè dai va Io vado via Che cavolo è Alessandro Anche su telegram Ok Io vado via L'ho registrato Ora questa qua Poi la carico sul canale Così tanto per Bella Bella Va bene? Sì sì Se vuoi stasera Ci sono anche stasera E vediamo Vediamo se stasera Riesco a tornare Va bene? Io intendi E intendo solitamente Io vado Esco il venerdì Quindi se torno presto Facciamo qualcosa Magari in Andy Light Vediamo Vediamo Va bene? Ciao 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 Grazie.